Un viaggio molto importante per la Chiesa nel campo dell'ecumenismo. Così Papa Francesco ha presentato ai giornalisti che lo accompagnavano nel volo verso Malmo i suoi due giorni in Svezia, diciassettesimo viaggio del suo pontificato per la storica commemorazione comune luterano-cattolica della riforma. Atterrato nell'aeroporto internazionale, il pontefice ha incontrato il primo ministro svedese Lofven e la ministra della cultura e della democrazia Bad Kunke. Dopo il pranzo nella residenza di Gelosa, il Papa ha raggiunto la città universitaria di Lund, scelta per la commemorazione perché qui, nel 1947, nacque la federazione luterana mondiale. Nella residenza reale Francesco ha incontrato Re Karl XVI Gustave e la regina Silvia e con loro si è poi incamminato verso la cattedrale luterana. Al canto laudate dominum della comunità ecumenica di Tese, la coloratissima croce, simbolo dell'evento, ha guidato la processione chiusa dal Papa, dal presidente della federazione luterana Monibe Yunan e dal segretario Martin Junge. Quest'ultimo, teologo cileno, in spagnolo ha sottolineato che la grazia del battesimo è un dono divino che ci unisce e che è tempo di costruire ponti per avvicinarci, case per riunirci e anche mense dove poter condividere il pane e il vino. Non possiamo rassegnarci alla divisione, ha esordito Papa Francesco nella sua omelia, sempre in spagnolo, chiedendo di purificare il nostro passato e alla distanza provocata da una separazione che è stata storicamente perpetuata da uomini di potere di questo mondo più che per la volontà del popolo fedele. Abbiamo la possibilità di riparare ad un momento cruciale della nostra storia, superando controversie e malintesi che spesso ci hanno impedito di comprenderci gli uni gli altri. La nostra separazione, ha proseguito il Papa, è stata un'immensa fonte di sofferenze e di incomprensioni, ma ci ha anche portato a prendere coscienza sinceramente che senza di lui non possiamo fare nulla. Con gratitudine, aggiunto, riconosciamo che la riforma ha contribuito a dare maggiore centralità alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. Quindi ha ribadito il valore della dottrina della giustificazione, fino al 1999 fonte di divisione con i luterani, che esprime l'essenza della esistenza dell'uomo davanti a Dio. Ora il mondo si attende da noi la testimonianza dell'unità, ha concluso Papa Francesco. Come cristiani saremo testimonianza credibile della misericordia, nella misura in cui il perdono, il rinnovamento e la riconciliazione saranno un'esperienza quotidiana tra noi. Insieme possiamo annunciare e manifestare concretamente e con gioia la misericordia di Dio, difendendo e servendo la dignità di ogni persona. Senza questo servizio al mondo e nel mondo la fede cristiana è incompleta. Parole e impegni che si sono poi riversate nella dichiarazione congiunta firmata dal Papa e dal Vescovo Yunan al termine della preghiera nella quale luterani e cattolici individuano l'obiettivo degli sforzi ecumenici l'arrivare a condividere la mensa eucaristica e chiedono a parrocchie e comunità di essere coraggiose, creative e piene di speranza per continuare la grande avventura che ci aspetta. Grazie a tutti.